Per quanto riguarda i tempi è un augurio più che un pensiero. Sicuramente esiste una potenzialità dell'Italia come ponte nel Mediterraneo, esistono delle grandi potenzialità in Africa, esiste comunque la possibilità di aprire un canale sud-nord che comunque va ad integrare l'attuale canale di approvvigionamento europeo est-ovest. Perciò tutte queste sono delle condizioni che potrebbero portare l'Italia in una condizione infrastrutturale importante per l'Europa.